PaviaPlay.it, accende il tuo territorio. Ciao, pronto? Ciao, sono io. Come stai, bella? Sei proprio un tesorino amoroso, un trottolino. Tu, 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 da, da, da. Oh mamma mia, quanto ti voglio bene, guarda. Ascolta, come stai? Male? E che hai fatto? Ascolta, guarda, io credo che ne fa pure peggio. Infatti molto lo racconto, guarda. Sai che è successo? Poi mi dici tu, tanto sarò veramente molto molto breve. Praticamente al 23 di dicembre mi è venuta l'idea e ho detto a Coso e senti, guarda, famosi un giro all'Ikea, dai, che magari troviamo qualcosina per la tavola del 24, no? Perché sai, tutti i runner che ho, mi hanno stufato. Sì, saranno circa una trentina, però, insomma, no, lo sai, come siamo fatte, no? E ho pure i bicchieri, tutte queste cose qua da cambiare. Ho detto, ma, andiamo a vedere, dai, 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 dai. E allora l'ho convinto, praticamente, lui non è che fosse molto contento, ti dico la verità, però, tanto per sta a casa a facchè, che lui dorme, perché lavora tutto l'anno. Cazzo dormi, voglio dire, dormi in altro momento, no? Dormi le notte. E allora, però, ecco, gli ho detto questo, gli ho detto, guarda, a me le gira qua tutte le Ikea di Roma, mi sono un po' stufata, perché io ho un dubbio, capisci? Poi, dimmi se non c'ho ragione, nel senso che arrivo al catalogo, poi vado anche online, perché tre volte al giorno circa navigo nel sito dell'Ikea, no? E mi pare, però, che quando andiamo a vedere qua, tra le varie sedi, manchi sempre qualcosa, no? Ho capito cosa, esattamente, no? Ma mi pare che comunque non siano rifornite bene le nostre Ikea, no? E allora, a cosa gli ho detto? Senti, guarda, c'ho un'idea, no? Perché sai che poi, sempre, insomma, le le geniali sono una creativa, prepositiva, e quindi non sbaglio mai, insomma, in queste cose qua. E allora mi ho detto, andiamo, sì, c'è da andare, però, fanno così, andiamo a quella di Firenze, perché così io posso magari fare una comparazione tra le Ikea di Roma e l'Ikea di Firenze. E si è lamentato, ma pure poi, si è pure incazzato, perché mi fa, eh, oh, ma che te credi? Cioè, l'autostrada costa, a benzina costa qui, l'accisimo, e tutto aumenta, e sempre sono i discorsi, vabbè, li sai pure tu, no? Perché anche cosa tua è così, e spai che qui pare che sta arrivato a qualcuno, e, e mo mi pia pure prescema, c'ha pure ragione, ovviamente, e, e, no, mi pare niente, è passato. E, e, allora, e, la mattina dopo, insomma, mi sono svegliata alle 5 e un quarto, eh, ho messo la sveglia, ma ero già, sveglia praticamente alle 4 e mezzo, ho dormito pochissimo, perché, chiaramente, l'ho emozionata, no? E, e, al che, mi sono preparata, e mi sono messa tutta in tiro, no? E ho messo pure, guarda, ho provato il rossetto nuovo, quello no transfer, che, eh, durata 12 ore, così l'ho testato, perché mi sono detta, vabbè, all'Ikea, sai, sai quando entri, sai quando esci, no? E quindi volevo arrivare tutta carina, carina, insomma, il tacco 12, eh, la gonna, un po' sopra il ginocchio, eh, il maglioncino un po' scollato, insomma, che fai, vai in sti posti, eh, ci vai come, così, con la palandrana, me pare bello, no? Eh, chiaramente, all'Ikea, oh, siamo a scherzare, eh, e allora mi sono preparata, sono andata pure dalla parrucchiera, se era prima, mi sono fatta fare il trattamento alla cheratina ai capelli, poi mi sono fatta fare il laminante, un sacco di cose, no? Infatti, stavo proprio bene, guarda, ti dico la verità, eh, il giorno prima ero andata dall'estetista, me l'ho fatta depilare tutta, pure là sotto, perché non so mai, sai, era all'Ikea, sono proprio nei materassi, c'è pure gente che ci sale con le scarpe, ci salta sopra, e io mi sono detta, magari a cosa gli piglia, boh, magari un attimo, eh, e magari in quel momento non c'è manco nessuno, sai, tre secondi e lo ha finito, e comunque, vabbè, adesso, a parte questo, eh, sì, siamo andati a Firenze, alla fine, eh, guarda, quattro ore e mezza per arrivare, insomma, manco tanto, eh, un'ora e mezza circa per il parcheggio, eh, nulla, eh, siamo entrati finalmente, eh, eh, quindi niente, abbiamo fatto prima tutto il giro, chiaramente, come sai, eh, di dove c'è stata la mobilia, no? E, eh, cosa che si lamentava sempre di nuovo, perché comunque, guarda, non si può andare con l'omini, cioè, eh, dove manda tra amiche, c'è niente da fare, no? Perché vai, fai un passo, che fai, non guardi i prezzi di tutto quello che vedi, no? Eh, appena entri, tra l'altro, non te in taschi, otto matitine e, eh, centoventi foglietti, chiaramente, che ti mettono a disposizione, e poi centimetri di carta, ma sai quanto uso io, centimetri di carta dell'IKEA? Tutto l'anno, cioè, quando devo prendere misure, eh, praticamente piglio quelli, eh, erano un po' rovinati i miei, eh, c'ho tutta la collezione dal 1993 e, eh, me l'ho detto, no, vabbè, eh, adesso ci vogliono pure quelli nuovi, no? Eh, così, ehm, dovevo andare in bagno, quindi ci ho perso circa un ventitré minuti, eh, perché poi sai, c'avevo orbò, insomma, un po' attillato, la carta tutta precisa, con la riga dietro, dovevo guardare allo specchio un casino, guarda, con sta riga, vabbè, ehm, abbiamo iniziato a far giro, ehm, poi sai che quando entri, comunque, subito vedi, di, per esempio, i moduli Kallax, eh, dove, eh, ci puoi mettere i libri, insomma, ma, poi, ehm, lo sai anche tu, insomma, eh, sono veramente, eh, così, eh, molto funzionali, perché, praticamente, adatti a tutti gli ambienti, pure accesso, insomma, in cucina, in cantina, eh, sul tetto, insomma, sul camino, il comignolo, quello proprio che spunta fuori, no? Ci puoi mettere, che ne so, quattro piccioni impagliati, quello che ti viene in mente, veramente belli, 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 e soprattutto, eh, economici, no? Quindi, insomma, con poca spesa, veramente, è massima resa, no? E, quindi, guarda, Kallax, toccalo, guarda un attimo la, la variante laccata, tocca pure quella, perché è un po' importante, eh, comunque, sono veramente sempre solidi, eh, questi moduli, veramente, sono tra i migliori, guarda, i più venduti nel mondo, ma, eh, ci hanno ragione, proprio un fatto, hanno fatto proprio un lavoro, mh, io non so chi l'ha inventato, il Nobel, il Nobel, e, quindi, fai un passetto, quella, e si lamentava, e io gli ho detto, scusa, co, eh, però, voglio dire, eh, quando vai a carcetto, c'è, sei due, due ore e mezza, con gli amici, tu va, lì, a correre dietro un pallone, eh, non te lamenti mai, tu orni, che sei contento, ti fai, che sei già docciato, e tutto quanto, eh, sei pure vigoroso, e lì, vai a tennis, tutto bene, eh, tutto sudato, torni, che fai pure schifo ai cani, però, se fa sempre bene, poi, eh, vai chiaramente a farti di, eh, tutto il giro della Pirata delle Oste, che, mh, sei pure arrivato a Castelporziano, che hai visto il Papa della Residenza Estiva, bene, anche lì, praticamente, e, e, mh, ti fai praticamente un triathlon, tra, ehm, lì, la spiaggia de Ostia, Ostia Antica, dentro agli scavi, e poi arrivi fino, eh, da Sisto, per mangiare il gelato, e dopo vieni all'IKEA, fa 6, 2, chilometri e mezzo, passo, passo, che pare di giocare a 1, 2, 3 stella, no, c'è presente il gioco, no, che uno, mh, sta praticamente con la capoccia nascosta, e, mh, sta girato, e dice, 1, 2, 3 stella, e gli altri devono muovere, proprio fa i passi piccoli, no, tipo da formica, e, cose di questo tipo, e, mh, perché quando il giocatore dice stella, non ti deve, e vede che ti stai a muove, no, e, mh, quindi, ecco, si procedeva proprio calmi, lenti, poi ci vuole proprio il relax, cioè, che ci va a fare questi posti, se, mh, non so, come fai a vedere le cose, a controllare i prezzi, guarda, proprio non lo so, non lo so, non lo so, non so che mi è venuto in mente, da andarci con lui, ormai, ogni volta me lo dico, e, 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 mi propongo da chiamare, da chiamare, insomma, per andare noi due, e, nulla, è poi andata così, e, mh, e, finalmente, insomma, mh, vediamo, o almeno vedo io, delle cose interessanti, no, perché poi, ogni ambiente che quelli, gli architetti, eh, sta gente che lavora all'IKEA, no, allestisce per il pubblico, vuoi non fermarti, praticamente, nell'ambiente, a guardare tutto quello che hanno messo, è l'ora di, poi, che però, che ti viene in mente, eh, e ti dici, cazzo, però, eh, la camera d'eletto sarebbe, effettivamente, un po' da rinnovare, da cambiare, la cucina, la cucina, c'ha due anni, con la cucina lì, mecca da pezzi, ma, dai, non si può avere così, no, e il salotto, tutto lo spazio living, e, mh, anche quello, un anno e mezzo fa, ha cambiato, ma, proprio, stufato, cioè, sempre le stesse cose, vedo in casa, e che cacchio, e, 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 poi, mi stavo fatto conti, perché dicevo, vabbè, eh, per ricambiare, per esempio, la camera da letto, no, eh, devi far, dipingere i muri, il soffitto, cioè, da cambiare le tende, per cui, devo prendere tutto il coronario, sai, tutto il pantone, no, perché, chiaramente, mi dicevo, un mese e mezzo, chiaramente, per abbinare tutte le tinte giuste, e, mh, di fatto, eh, poi, ecco, un'altra cosa, non vuoi cambiare i pavimenti, cioè, eh, cambi, eh, la mobiglia, e ti tieni i pavimenti, dei due anni e mezzo fa, ma, stiamo a scherzare, cioè, ma, dai, non esiste, no, eh, ecco, ma è capita, ma è capita, no, giusto, ma è capita, eh, eh, e, quindi, ecco, così, due conticini, dei tempi, magari, così, i prezzi, e che uno, eh, lui mi fa, ma tu, ma non credi di vive, no, eh, cavolo, dico, lavoro tutto l'anno, mi potrò togliere uno sfizzetto e cambia la camera dentro, la cucina, il bagno, il salotto, eh, lo spazio lavanderia, eh, l'armadio a muro, no, eh, la camera dei ragazzini, eh, dai, eh, non capisce mai, cioè, proprio, hm, non mi comprende, non mi comprende, eh, stiamo, ogni tanto, stiamo a litigare, eh, per queste cose, eh, però so che tu mi capisci, vero, mi capisci, no, eh, perché tu mi capisci, appunto, eh, infatti, eh, chiaramente lo so, e vuoi che non lo so? Non lo so, è certo che lo so, no? E allora, niente, insomma, ci abbiamo messo comunque, eh, altre quattro ore circa, e poi, sai, siamo andati lì al buffet, praticamente, e abbiamo preso, eh, un caffè, lui si è preso, eh, tre salmoni con sesamo, eh, i cracker vasa, con sale, eh, una marea di altre cose, e mi sono presa sto caffè, eh, senza zucchero, perché, vabbè, poi ero lì, carina, carina, insomma, sono dimagrita anche, si dovette in mezzo, in cinque mesi, eh, neanche, un piglio, sai, una bustina di zucchero, e magari un dorcetto, erano pure belli, tra l'altro, da vedere, eh, forse erano pure buoni, vabbè, pazienza, e, hm, siamo scesi, praticamente, al piano di sotto, e, dove c'erano tutti gli accessori, no, e io c'ho proprio in mente, guarda, le comprate, il servizio, eh, dei piatti, bellissimo, guarda, l'ho visto, bellissimo, cioè, proprio, spacca, spacca, quello, con i piatti grigi, eh, tipo, sai, quel grigio, sorcio del tevere, no, che ti esce proprio dalla fogna, eh, quello che mette proprio paura, pure, alla protezione animale, di quello, è una punta di grigio, guarda, bellissimo, fantastico, tra l'altro, proprio immaginavo, tra l'altro, lì, la mia tavola, no, non ho mai avuto il grigio in tavola, e allora mi so detta, magari metto due runner per così, no, poi magari metto un centrotavola, e ce ne era uno fighissimo, tra l'altro, che l'avrei pure comprato, eh, però, intanto ci torno presto qua a Firenze, nel senso, due giorni, e vedi chi, eh, ci torno, e, hm, anche se poi mi so detta, magari, a Lichia, che lo so, di Milano, eh, sai, Milano comunque, è, tutto sommato, è quasi, è una metropoli, no, qua in Italia, per cui, forse da Milano, guarda, la prossima volta a Lichia, adesso, non mi organizzo, se 48 ore, e, magari, ce vado, no, e, mi porto qua, un troll, insomma, il beauty case, sai, perché, ripeto, a Lichia, sai, quando entri, sai, quando ci esci, e, e, magari, passo pure la notte là, insomma, tanto, da dormire ci sta, no, voglio, voglio, di, da mangiare pure, nel senso che, col buffet, c'è pure la tavola calda, un microonde ce l'avranno, no, per scaldare, eh, una tisana, qualcosa, insomma, eh, tanto, poi, porto tutta la cassa, voglio ripago, eh, pago, pago, mica, eh, vado là a mangiare, chiaramente, a, a spese degli svedesi, e, pure noi, eh, siamo civilizzati, o, mica solo loro, non stiamo a scherzare, e, quindi, eh, ecco, ho visto, insomma, mh, sto coso grigio, mh, di piatti, tutto il set, e, lì, e, guarda, ci potevi abbinare un sacco di cose, e, trasparenti, e, potevi fare il contrasto grigio, e, e, oro, no, mh, non, guarda, c'era da perdersi, da perdersi, da perdersi, nel senso che, eh, ho, mh, comprato un sacco di cose, e, poi, il problema, qual è stato, praticamente, eh, siamo arrivata la cassa, no, la fila, che, guarda, mh, ci puoi credere, cioè, e, vabbè, pure lì, siamo usciti le notte, praticamente, che, poi, hanno chiuso, perché ci hanno, proprio, spinti via, mh, mh, e, ogni tanto, capita lì, che, no, quando sei in tanti, poi, sai, proprio, eh, a ridosso di Natale, è, un po' un casino, e, mh, e, niente, non c'è stava, no, vabbè, macchina, e, lì, cosa, ancora, se l'è presa, è sempre con me, poi, è sempre colpa mia, lo sa, che dall'IKEA, ci esci, comunque, con un sacco di roba, di solito, eh, non è che ci vai tutti i giorni, eh, e, vuoi non comprare, eh, chiaramente, sti piatti grigi, che, proprio, ero in fissa, non vuoi prendere, chiaramente, eh, tre, ehm, sette riposate, perché, comunque, ho anche gli altri piatti vecchi, no, e, quindi, ho preso quelli con i manici colorati, con le mani, sì, manici colorati, insomma, poi il bollitore del latte, eh, cinque wok, eh, poi ho fatto, ho approfittato, guarda, per fare gli ultimi legalini, sa dove fanno l'offerta, no, eh, che, appunto, cerchi, cerchi, qualcosa, eh, in sconto lo trovi pure, e, poi, insomma, per i ragazzini, chiaramente, ho preso una spalliera, eh, un quadro svedese, eh, il cavallo, che, così, in cameretta, vabbè, è vero, è piccola, è che ci sta ancora tanto, però, almeno, possono muoversi un po', no, sempre alla Playstation, dico, fa un po' di ginnastico ogni tanto, no, eh, ti metti, che ne so, un video di Yuri Keki, tappelli con l'anelli, e, e, vedi che, eh, magari, sei pure più in forma, e, mh, tutta salute, chiaramente, e, niente, e, quindi, non c'è stava, eh, per cui, alla fine, avevamo dovuto dormire a Firenze, mh, portava tutto, un arbergo, e, eh, questi qua, pure loro si lamentavano, oh, avevo intorno gente, solo che si lamentava, e, e, noi doventiamo queste cose, sai che, poi loro parlano, lì, con la gorgia, no, e, gne, gne, tutti gli snob, tutti gli chic, e, vabbè, non è che li sopporto molto, a dire la verità, e, e, quindi, avevo dormito lì, praticamente, la mattina, eh, poi, siamo tornati a casa, con parte della roba, e, e, niente, poi, coso, si è fatto, praticamente, 18 viaggi, fino al 24, alle 11 e mezza di sera, circa, eh, altri viaggi, eh, così ha portato a casa tutto, e, adesso, sono contenta, no, perché, eh, chiaramente, eh, lui dice che è stanco, è sempre stanco, sempre stanco, e, cavolo, quando deve viaggiare, eh, perché deve andare, che ne so, da Roma a Civitavecchia, non se lamenta, deve andare a Firenze alla volta, e me lo fa pesare, no, eh, anche se, poi, chiaramente, andate ritorno, andate ritorno, andate ritorno, andate ritorno, andate ritorno, eh, l'autostrada, e i costi, la benzina, e, no, cosa è l'altra, vabbè, eh, sai come sono fatti, no, eh, tutti uguali, e, adesso vado ad aprire i miei regali, guarda, oh, e, vedi, sei fatto tardi, fammi così, guarda, eh, ti richiamo casomai, domani no, perché è Natale, Santo Stefano è un posto, e, eh, ti richiamo casomai, con l'anno nuovo, così, mi dici, che ti è successo, ciao, guarda, ti vado un bacione, sai, ti penso sempre, guarda, veramente, io quando ti penso, che mi viene in mente la tua faccia, mi si allarga proprio il cuore, e, e mi dico, madonna, chissà quella ragazza che sta a fare, e, comunque, ti chiamo presto, eh, ciao, 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 Paviaplay.it accende il tuo territorio